Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua. La storia che vi leggo oggi è tratta da questo libro che si intitola Altre storie ed è di Gianni Rodari. Torniamo a rendere omaggio a questo grande scrittore per bambini ma anche per adulti di cui quest'anno si celebrano i cento anni dalla nascita però oggi è il 14 aprile e il 14 aprile del 1980 Gianni Rodari ci ha lasciati per cui è un modo per rendere onore alla sua grandezza e tratto da questo libro il titolo del racconto è Nel mondo dei sogni. Per una fortunata combinazione ho potuto gettare un'occhiata nel mondo dei sogni, è successo così. Mentre stavo per addormentarmi ho scoperto proprio sotto il cuscino uno strano ometto non più alto di un topo ma tutto completo dalle scarpe al cappello vestito in doppio petto grigio cravatta verde e occhiali. E lei che cosa fa qui cosa vuole? Abbia pazienza faccio il mio dovere sono un impiegato della ditta sogni e figli. Vengo qui tutte le sere a svolgere il mio programma, sono io che suggerisco i sogni mentre dorme. Ma bene, benissimo, dunque è lei che la notte passata mi ha tormentato con quel terribile sogno pieno di ragni che si arrampicavano sulla mia faccia e mi facevano l'altalena sul naso? Non è colpa mia, io eseguo gli ordini della ditta. Stanotte, guardi qui nel registro, lei doveva sognare una scatola da scarpe piena di spazzolini da denti. E perché proprio io? E perché proprio spazzolini? Oh cosa vuole, sono gli ordini, io non posso mica disubbidire eh, mi licenzierebbero in tronco. Allora, l'ho preso per un orecchio, ben deciso a non lasciarmelo scappare. Mi porti dal suo direttore, voglio sporgere reclamo. Per carità, lei vuol mettermi nei guai, non si può mica, si può, si può, andiamo, forza. Ci siamo trovati in una specie di soffitta, dove un centinaio di quegli omettini, seduti su seggioline da bambola, aspettavano l'arrivo del direttore. Un altro che protesta? Ha domandato uno degli ometti alla mia guida, indicandomi. Proprio in quel momento è entrato questo direttore. Un ometto più ometto di tutti gli altri, in abito da sera, con certi lunghissimi baffetti che gli saltellavano attorno alla bocca come zanzare. Ha cominciato subito ad arrabbiarsi con questo e con quello. Lei, sì, dico a lei, sa che mi fa delle belle confusioni? Bene, doveva far sognare un terno all'otto alla signora Casalini e invece lo ha fatto sognare al dottor De Bernardi che all'otto non ci gioca proprio per principio. Alla signora Casalini, poi, ha fatto sognare un fucile subacqueo. Oh, sì, figuri, povera donna, che cosa ne dovrebbe fare lei di un fucile subacqueo? Lei che nel mare non ci ha messo mai neppure il mignolo. Signori miei, così non si può più andare avanti. Il disservizio è spaventoso, ci stiamo impigrendo davvero e nessuno fa più il proprio dovere. Si potrebbe sapere perché l'impiegato numero 178, per esempio, si diverte a far sognare al presidente del tribunale che, mentre pronuncia la sentenza di un importante processo, si accorge di essere in pigiama? E l'impiegato numero 3457 mi potrebbe dire, per favore, in un orecchio, perché l'altra notte il ministro degli esteri ha sognato di fare la ruota come un tacchino? Questi scherzi, signori carissimi, non si fanno. Vi avverto per l'ultima volta. O rispettate gli ordini, o sarò costretto a prendere provvedimenti severissimi. Avreste dovuto vedere tutti quegli ometti stringersi nelle spalle, nascondersi nel bavero del doppio petto, tirarsi la cravatta fin sopra gli occhi per scomparire. Pareva di trovarsi in un'aula di terza elementare, quando il maestro è arrabbiato. Il mio omettino mi si è arrampicato sulla spalla per sussurrarmi all'orecchio. Per piacere, per piacere, non faccia reclamo, altrimenti mi diminuiscono lo stipendio. Dica, dica che è qui in viaggio premio, o cerchi di darmi una mano. Infatti, quando il direttore generale della ditta si è accorto di me, mi sono messo una mano sul cuore, e ho detto, ho chiesto il privilegio di assistere a questa riunione per ringraziare la direzione dei magnifici sogni che mi ha procurato in questi ultimi tempi. Sono veramente soddisfatto del mio fornitore. Direi proprio che merita una promozione. Oh, lo faremo ispettore del quartiere, ha detto il direttore generale soddisfatto, infilandosi un baffo nel naso per farsi solletico. Ah, ma subito è tornato severo, irritato. Signori miei, le cose vanno malissimo. Noi ci ostiniamo a far sognare alla gente certi sogni all'antica. Eh no, no, bisogna rendersi conto che i tempi cambiano. Gli uomini lanciano satelliti, vanno sulla luna, preparano astronavi per visitare l'universo. Noi siamo rimasti indietro, forniamo ancora sogni del secolo passato, merce vecchia, numeri dell'otto che non escono e roba del genere. Dobbiamo aggiornarci, altrimenti la gente non sognerà più e noi andremo in fallimento. Mentre tornavamo a casa, l'ometto mi ha chiesto. Beh, ha qualche preferenza, se posso accontentarla. Eh, senta, gli ho detto. Mi faccia sognare di essere sempre sveglio. Dormire è tempo perso in quest'epoca, così movimentata, con tante cose da vedere e da fare. Oh, in quel momento mi sono ritrovato nel mio letto. Ho alzato il cuscino e c'era sotto soltanto un fazzoletto. Niente omettini, niente di nient'altro. Chissà se quell'ometto l'ho visto davvero o me lo sono sognato. Ciao a tutti!